È stata forse più dura del previsto, eh? Sì, è stata più dura del previsto? No, vabbè, sapevamo che sarebbe stato duro dopo una settimana di gara all'Europeo e tutto, quindi sono proprio contenta e finalmente sono sicura che andrò a Tocchio e mi sono levata a un pensiero, ora possiamo veramente lavorare fino a luglio come vogliamo. E posso venire per più? No, no, è una cosa più dura.